pensiamo che questa sia un'immagine di cui noi vogliamo creare un libro con una copertina di un libro quindi per vedere come verrà stampata io andrò a prendere il profilo della mia stampante offset che abbiamo detto è uno standard quindi il coated fogra 39 questo mi permetterà di vedere andando a simulare come verrà su quella stampante gli do l'ok e poi verifico effettivamente quali quanti colori saranno stampabili così come erano originariamente nel file quindi prendo che vado a fare l'avvertimento gamma ecco in questo caso vediamo che un'immagine di questo tipo è assolutamente non adatta per essere stampata su quel tipo di stampante con quella tecnologia perché notiamo che praticamente nessun colore dell'immagine rimarrà uguale sono tutti colori fuori gamma vediamo invece come se incominciassi a utilizzare una stampante injet su una carta lucida notiamo come è sempre presente del rosso quindi ci sono comunque dei colori non stampabili ma la maggior parte dei colori adesso sono effettivamente stampati per questo vi dicevo che ci sono delle immagini che possono essere stampati su alcune tecnologie o su carte diverse un'altra cosa che però volevo farvi vedere togliendo l'avvertimento gamma è quello che succede usando intenti diversi questo che noi abbiamo è l'intento percettivo vediamo che l'immagine è tendente all'azzurro blu se uso il colorimetrico relativo scopro che l'immagine tende al viola perché questa differenza la questione deriva dal fatto di quanto i colori sono fuori dalla dallo spazio colore della mia stampante in questo caso i colori sono talmente al di fuori nel mio gamut che quando uso il percettivo per far rientrare i colori nella parte stampabile della mia stampante muovo tutti gli altri colori spostandoli dal violetto verso il ciano azzurro questo significa che cambio completamente i colori ecco questo è un caso chiaro per indicare che in questo caso sarebbe meglio usare il colorimetrico relativo dove comunque i colori sono decisamente più fedeli anche se poi magari perdo quell'equilibrio cromatico iniziale dell'immagine però perlomeno i colori sono molto più fedeli quindi anche se non ci si ricorda bene esattamente cosa fa un intento rispetto all'altro ricordatevi sempre che c'è la possibilità di vederlo fisicamente e quindi di decidere qual è l'immagine migliore per la vostra stampa